AC Crazy Fashion Shop contro Allegri Girarrosti FC Ultima giornata Prima 7 Cup Week Seconda fase Gruppo 1 AC Crazy Fashion Shop Costretto a vincere per andare direttamente ai semifinali Allegri Girarrosti Ormai tranquilli Riccardo Abis se ne va centralmente La sua conclusione Andrea Arjonas Respinge Adesso Fidio sulla sinistra si libera di Zucca Poi si deve centrare Arriva Casu Tanta potenza meno la precisione Adesso Zucca dalla destra Il pallone è sulla sinistra per Alberto Lianas Che si libera di Casu La dà poi per Matteo Usai la girata Che non inquadra però lo specchio della porta Adesso Paderi l'errore sulla sinistra Recupera Pallabis che poi la mette per Fidio Al volo Traversa Clamorosa Arriva Casu Paderi Pallone però ancora lì Sulla sinistra per Fidio Atterrato da Zucca Calcio e punizione da posizione Interessante Se ne occupa Stefano Casu Fai una telefonata Ad Andrea Argiolassa Esso Casu dalla destra Esce Andrea Argiolassa Anticipare Fidio Poi però Abis Anticipa Andrea Argiolassa Allora Fidio Ancora sulla sinistra Dentro per Casu C'è il vantaggio Degli acicresi Al dodicesimo Minuto di gioco Adesso Fidio Centralmente per Casu Sulla destra Casu Ci prova Senza però inquadrare lo specchio Il pareggio di Ulianas Al diciottesimo Non siamo in grado di mostrarlo Proprio Ulianas Punizione Sanna Strepitoso Alza sopra la traversa Adesso Marras Ancora una posizione Per gli ospiti Ancora Sanna Poi Abis Giuncischi Arriva Cicalò A spazzare L'area di rigore Adesso ancora Ulianas Se ne va sulla sinistra Il traversone Sanna in qualche modo Poi arriva Stefano Casu A sbrogliare la matassa Se è una ripresa Casu Il traversone Della sinistra Arriva a sei Di prima attenzione Pallone Clamorosamente Alto di un nulla Adesso Fidio Sulla sinistra Decide di accentrarsi Può provare Il tiro lo fa E palla che si sacca Alla destra Di Stefano Argiolas Per il 2 a 1 Arancione Al quarto minuto Del sconto E poi sorti Tu recupera Palla sua sinistra La metta per Fidio Stefano Argiolas Providenziale Poi anche fortunato L'estremo azzurro Adesso Fidio per Casu Che vince il rimpallo Sulla destra Con Zucca Stefano Argiolas Però mette il pallone In calcio D'angolo Adesso Marras Libera molto bene Sia di Mann Sia di Casu Ferma il pallone Allimita E l'area di rigore Prova la conclusione Mann in calcio D'angolo Adesso Andrea Argiolas In mezzo per Marras a 6 Providenziale Providenziale Anche su Stefano Argiolas Ma che partita Adesso ancora Marras Si libera sulla destra La conclusione Mann in qualche modo Poi arriva Alberto Ogliana Spallone che si insacca Nell'angolo destro Il 2 a 2 Al decimo Del secondo tempo Adesso Abis Se ne va sulla destra Decide a centrarsi Il tiro d'esterno Paderi Blocca In due tempi Adesso il traversone Di Casu Dalla destra Attenzione Artisus sulla sinistra Zucca In qualche modo Poi arriva Mann Tanta potenza Poca precisione Si rimane Sul potenzio di 2 a 2 Adesso Lianas Dalla sinistra Lancia Marras Sulla destra Si libera Di mani il tiro Non inquadra però Lo specchio della porta Adesso Abis Cerca di andarsene Centramente Ci riesce Il pallonetto Cerca di andarsene sulla destra, vede l'arrivo di Cicalò lo serve, Cicalò pressatissimo da Alberto Lianas cerca lo spazio per il passaggio, lo trova in questo momento, palla per Stefano Casu che può entrare in eredito e lo fa il tiro in calcio d'angolo, finisce così gli Allegri finiscono primi dopo aver vinto contro gli Acicresi col punteggio di 3-2, Acicresi che va allo spareggio Allora siamo qui con Manuel di Allegri Gerosti Manu, qualificazione avvenuta da primi del gruppo 1 e imbattuti la soddisfazione è quanto è grande da 1 a 10 Siamo contenti tutti, l'impegno è stato premiato siamo un gruppo di amici lo facciamo per divertirci e quindi l'esultato l'abbiamo già ottenuto Andate in semifinale, vi fermate una settimana ti chiedo, senza voler cocurare chiaramente può essere pericoloso fermarsi una settimana considerato che la temperatura reale? Ma guarda, sinceramente arrivati a questo punto cambia poco Ascolta, vuoi mandare a quel paese di Caglia che ti sta infirando Valeri Valeri Ci conosciamo mille anni con un gruppo di amici e siamo contenti di giocare insieme e divertirci Ascolta, sei arrivato secondo il Champions e pagherà sei in piena corsa per la Summer Cup ti stai per iscrivere alla All'Almond All'Almond, esatto sei in corsa anche nel Jungle League e nel Seven quest'anno rischi di fare l'Almond ma a che cosa punti di questo torneo? Siamo un gruppo di amici che ci conosciamo da tanto tempo che essendo tanti è giusto suddividerci in vari tornei ma la cosa più importante è divertirsi e creare un gruppo che sta benissimo Perfetto Grazie Maroli Buon carino per tutto Ciao, ciao Grazie